maile li peta meno nera in inizio non guten morgen buongiorno a tutti questo vostro adler 19 minuti non 85 marco lascio monaco dal cuore della pafaria per tornare a parlare di questa bellissima nazionale iscrivetevi al canale era un po che un voce come sa che moso scordano gli ultimi tempi iscrivetevi al canale fatelo se vi fa piacere e lo dico perché lo dicono quelli bravi che è quella cosa che non sono io e che bella banda mancini che bella che bella veramente sto video avrei voluto farlo di sera ma tra un imprevisto e l'altro purtroppo non ci ho fatto ho fatto troppo tardi la vicina di casa signora c'ha due bambini piccoli non mi sembrava per caso mi mette meglio a fare buonasera dai e quindi mi ritrovo adesso nel pre lavorativo quindi un orario un po anomalo per i miei tempi pubblicazioni a parlate questa bellissima nazionale bellissima nazionale e ieri eravamo tutti un po preoccupati diciamocelo perché poi dopo la sconfitta della turchia col galles sono saltate un po la mente ste domande allora forse la turchia non era veramente sa squadra insormontabile difficile da battere impossibile da mettere sotto probabilmente abbiamo un po sopravvalutato la squadra la turchia è invece che viene a svissera hanno fatto un tiro in porta mezzo forse in una partita uno hanno fatto da te che dissi pure dissi donna rum ha fatto la prima parata in due partite ha fatto e non perché abbia fatto delle cappellate perché non gli sono arrivati tiri giustamente e l'italia bellissima bellissima squadra che lotta che gioca che combatte che sta sempre lì due partite sei gol meravigliosi meravigliosi tutti quanti tutti 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 ora non non voglio illudermi da niente e personalmente io resto sempre con i piedi per terra ragazzi resto sempre con i piedi per terra perché non è che vinci due partite una due partite magari tre perché il galles è comunque una squadra ampiamente alla tua portata e allora dice allora possiamo vincere l'europeo piano piano perché ci stanno altre partite perché affronteremo nazionali molto più forti di quelli che abbiamo fino adesso però l'italia è bella l'italia era bella e c'è entusiasmo c'è c'è voglia c'è rabbia c'è grinta c'è unione sotto sto punto di vista mi ricorda molto l'italia del 2006 che vinse il mondiale sotto il punto di vista corale ok poi gli interpreti di quella nazionale erano interpreti di un altro livello ma questi anche ieri una doppietta dei locatelli un giocatore che c'era anche chi osava di bebo forse locatelli è un europeo grande personalità o vedevi dappertutto in campo a parte due gol ha fatto una bellissima prestazione ovviamente migliore in campo per quello che sono anche la doppietta che insomma su tre gol ha fatto i due come fai a dire che non è migliore in campo è un centrocampista né una punta che ci si trova un altro bellissimo gold e mobile che non gli avate fa quelli facili mi fa difficili mi prende se gira da fuori aria da 30 metri 25 30 metri quant'era bui dire una botta la la al palo fa go a città noi che sta bene poi più ne fai e meglio è ci fa piacere bella 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 bellissima e speriamo che continui così adesso domenica c'è l'impegno contro i galles che è diventato quasi una formalità e dico quasi perché sarebbe etonio passare da primi del girone quindi cerchiamo di non perdere con il galles sicuramente mancini farà del turnover darà spazio ai giocatori che hanno giocato meno parere mio poi magari mi sbaglio e poi magari dico una cavolata però penso che ci sarà un po di ricircolo un pochino di facciamo prendere un po dare a qualcuno e diamo vetrina giustamente anche a qualcun altro speriamo che questo qualcun altro sarà all'altezza io credo di sì perché anche i giocatori che entrano in campo al posto dei sostituiti entrano in campo e corono fanno mi piace mi piace sono veramente entusiasta sono veramente entusiasta sono felice ma come dicevo appunto stiamo carmio restiamo qui per terra e aspettiamo che che arrivino le fasi finali che si arriverà a giocare contro squadre più forti che andremo a giocare gli ottavi sarà sarà una battaglia è lunga ancora è dura però questa squadra c'è via che la banda mancini ci piace speriamo che continui così l'ho menzionato prima giustamente sono da lazio perdonatemi quindi non una menzione particolare la faccio al buon ciro che che ieri ha scusate ma ieri se stiamo tanto sentire pure la voce un po alterata a certo punto stavo stavo in una pizzeria sulla leopold strase è una strada è una delle artere per cipari de monaco una strada grossa pareva testa via di castani pareva testa perché era piano del semai nei bandieri di italia e perché ieri immobile mi è piaciuta la grinta che ciro a chi lo mette sempre tutto ciro ci mette sempre sempre tutto ci ha messo una grinta incredibile e alla fine sto altro arrivato due gol in due partite è motivato è carico e sente l'affetto del pubblico perché quando lo stadio di parte o levo levo lecci rocci 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 rocce fa bene ed è quello che diceva nel pre europeo non stiamo sempre lì ammette il giratore esempio anche altro esempio donna ruma col fatto e vai sordi su tutti i discorsi veri secolo santi ma adesso stava giocando europeo e stavo e stiamo tutti uniti stavo quindi sosteniamo sti giocatori tutti chi de voi parla allo stadio beati a voi vi invito tantissimo se avete la possibilità di andare all'olimpico e vede anche l'ultima partita fatelo che prego e siamo calmi ma che bella nazionale di roberto mancini detto questo ragazzi io vi saluto perché se fatta una certa dovrei pure andare lavorato dovrei andare ci sentiamo anche per il pre e il post partita di italia galles per vedere un pochino se riusciamo a mantenere ea ea solidificare la testa del girone e detto questo ricordate che non importa dove voi siate che siate a berlino che siate a monaco che siate a madrid che siate a new york la cosa più importante evviva l'italia e forza lazio